Questi finanziamenti senza un ritorno non hanno alcun senso che sono con lei, però dall'altro lato ecco io in questo momento di paura registro anche quello che lei ha detto che parallelamente e comunque questa è una zona che va presidiata, dove la Polizia Municipale deve esserci come c'è quasi pure in tutte le scuole, anche questi bambini devono essere accompagnati all'uscita della scuola e non essere così preda di malavita selvaggia che in questo territorio purtroppo non ce lo dobbiamo nascondere alla fada padrona perché ci sono delle evidenze e in questi anni io insieme alle associazioni a padrono adesso abbiamo provato a denunciare perché se c'è il fenomeno stese in un piccolo pezzo di strada e c'è una scuola è evidente che ci sarebbe bisogno quantomeno della Polizia Municipale, della pattuglia perché il fenomeno stesso è un fenomeno serio, è un fenomeno che purtroppo è tuttora presente in questo territorio e va attenzionato.